Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mister Auto. La spedizione è gratuita! Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare la testina dello sterzo, devi sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Usa una chiave inglese da 22 per svitare di qualche giro il controdado della testina dello sterzo. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro. Rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Adesso usa una chiave a bussola con inserto da 17 e sblocca il dado di sostegno della testina dello sterzo. Il dado dovrebbe sbloccarsi senza troppo sforzo. Mettilo in cima alla filettatura della testina in modo da proteggere la testina durante la prossima operazione. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Dopodiché potrai rimuovere il dado. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. In tal modo, quando la rimonterai, potrai metterla nella posizione più vicina possibile a come stava prima. Rimuovi il controdado dalla bielletta. Con il pennarello, fai sui nuovi pezzi il segno che avevi tracciato prima. Ingrassa la filettatura della bielletta e posiziona il nuovo controdado in cima a quest'ultima. Rimonta la testina stando attento al segno. Ruotala dello stesso numero di giri che erano serviti per smontarla. Ingrassa l'alloggio della testina per facilitare il prossimo smontaggio. Poi rimettila in posizione nell'asse. Rimonta il dado fornito con il nuovo pezzo. Premi sulla testina e stringila con una chiave a bussola con inserto da 17. La forma conica della giuntura a testina perno dovrebbe bastare a bloccare la rotazione durante la chiusura. Stringi forte. Controlla che i segni siano allineati. Poi avvita il controdado con una chiave inglese da 22. Nel corso di questa operazione dovrà intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Quando è regolato e perfettamente allineato, il suo scopo è di garantire un perfetto controllo della vettura e un'usura regolare dei pneumatici anteriori. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbasso l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Operazione con un'azondata in un'azondata in un'azondata in un'azondata. Chiudera